Dopo il 2009 si cercava di non parlare di Pinelli e di evitare proprio il nome. Con il 2009, con il riconoscimento di Napolitano, ci hanno contattato perché si raccontasse a chi non lo sapeva la vicenda. Nostra mamma è sempre stata molto restia a degli interventi pubblici, però fu l'occasione per ristampare il libro che aveva scritto nell'82, mi sembra, con Scaramucci, con le testimonianze di amici e quanto il Presidente della Repubblica disse nel giorno della memoria nel 2009. Dopodiché mia mamma è andata in giro, nostra mamma è andata in giro a presentare il libro e poi la cosa è continuata con noi, nel senso che ci sono stati richiesti interventi in scuole o presso delle associazioni e siamo andati a parlare. Quindi prima non avevate... Allora per me la cosa è stata un attimino diversa, cominciata nel 2009 anche per me. Allora fino a quel momento nostra madre si è fatta carico di tutto e lei che è diventata la vera roccia, è quella che ha protetto noi, che ha portato avanti questa grandissima battaglia per avere vita e giustizia. Nel 2009 accettando l'invito di Napolitano c'è stata anche la presa di coscienza di quello che probabilmente avrebbero voluto fare, cioè che un incontro di questo tipo, un riconoscimento di questo tipo diventasse una memoria condivisa, una pacificazione. E molti da quel momento hanno tentato di mettere le mani nella storia, cercando di trasformarla in qualcos'altro. E quindi è diventata ancora più importante portare avanti una testimonianza, perché la verità è una. E non esiste una memoria condivisa, una pacificazione nel momento in cui non c'è un riconoscimento di responsabilità. Il rischio è stato, si sono strette la mano, da questo momento è finito tutto, no, da questo momento si ricomincia. E quindi il nostro prenderci carico di tutto ciò, secondo me è dovuto anche a questo. Cioè successivamente all'intervento di Napolitano noi abbiamo ricevuto innumerevoli richieste di testimonianza. E sono state fatte anche tante altre cose, sono usciti ulteriori libri, è stato fatto un film, sono state fatte tante altre cose. Non tutte corrette. Quindi se per un periodo della mia vita ho pensato, ci penserà la storia, non toccherà più solo a noi, e ci siamo ritrovate nelle condizioni, dice no, ci siamo, noi ci siamo. E le cose sono avvenute, sono avvenute in quel modo. E vittime carnefici non si possono mettere sul stesso piano. C'eravate entrambe? No, c'ero io con mia madre. Che ricordo hai di quella giornata a livello pratico, proprio come si è svolta, cosa vi aspettavate, si è stata organizzata, come è stata data a Licia la notizia? Beh, Licia ha ricevuto una telefonata dal Quirinale, in cui la si informava che il presidente della Repubblica Napolitano avrebbe inserito il nome di Giuseppe Pinelli, quale diciottesima vittima di Piazza Fontana. E chiedeva a lei e a noi se avevamo piacere di partecipare. Quindi comunque la cosa sarebbe stata fatta ugualmente. Ne abbiamo discusso, ne abbiamo discusso parecchio. Erano anni che di Pino se ne parlava solo in ambienti ristretti. Cioè, ce lo continuavamo a raccontare tra di noi. E è stata, l'abbiamo vissuta come un'occasione. Un'occasione perché si riparlasse anche di Giuseppe Pinelli. Quindi abbiamo accettato di partecipare senza sapere assolutamente che cosa avrebbe detto Napolitano, né come si sarebbe svolta la giornata. E con una certa preoccupazione. Una preoccupazione anche perché comunque voleva dire risporsi. Cioè, far vedere la nostra faccia, diciamo. Come non rifarsi carico di tutto perché da quello noi non ci siamo mai esonerate. E quindi, niente, siamo partiti la mattina molto presto. Abbiamo preso l'aereo, siamo arrivati a Roma. Lì ci sono venuti a prendere degli amici che ci hanno accompagnato alla Quirinale. Abbiamo ricevuto, mentre eravamo in macchina con loro, una telefonata di non entrare dall'ingresso principale, ma di entrare dalla parte delle scuderie del Quirinale. Quindi ci hanno fatto passare da questa entrata laterale, penso per non incontrare i giornalisti, perché poi la giornata era stata incentrata su questo incontro. e quindi siamo stati ricevuti da questo consigliere Ruffo che ci ha accorto nel suo studio e siamo entrati nella questa stanza dove veniva svolta la cerimonia solo quando i giornalisti erano stati posizionati dietro delle transzende, chiamiamoli così, insomma comunque dei divisori. E niente, poi siamo entrate lì e c'è stato questi vari discorsi che si sono succeduti, alcuni estremamente significativi, come quello di Francesca Dendena, che allora era presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Piazza Fontana e lei è stata la prima a fare il nome di Giuseppe Pinelli, quale ulteriore vittima di Piazza Fontana. E poi abbiamo ascoltato le parole di Napolitano. Avete nominato il libro di Licia, l'ho segnato nelle domande perché nel libro successivo viene fatto riferimento a questa questione del macero delle copie invendute della prima versione edita da Mondadori. Corrisponde al vero, mi incuriosiva, lo so che è una domanda, vuol dire che all'epoca non trovo... Che viene mandato al macero quasi subito. Sì, infatti, le poche copie tra l'altro che abbiamo sono perché le aveva presi Scaramucci e... Salvandole dal macero. Salvandole dal macero. Sì, sinceramente, credo che... Allora, è stato stampato da Mondadori, quindi non posso pensare neanche che non avesse una distribuzione. Non so per quale motivo fosse stata fatta una simile scelta. Quindi rimase sostanzialmente non trovabile per un lasso di tempo fino a che Feltrinelli... Dopo, cioè dopo il 2009, è stata fatta la ristampa del libro, appunto, arricchito da altre testimonianze e la Feltrinelli ha dato la disponibilità. Chiaramente poi questo era partito prima dell'incontro con Napolitano, Francesca Ramucci aveva già contattato la Feltrinelli, che si era detta decisamente disponibile. Carlo Feltrinelli è stato molto disponibile. E quindi, appunto, non ho idea di come fossero la questione dei diritti di una casa editrice rispetto all'altra, eccetera. Voi avete un ricordo di Cesare Vurchio nell'infanzia? È una bella domanda questa. Io ricordo di lui e dei figli, perché Cesare frequentava la casa nostra. E aveva dei figli poco più grandi di noi, due maschi poco più grandi di noi. E quindi c'era una frequentazione di famiglie, per cui lui arrivava con la moglie, con i figli. Non mi ricordo di essere andata a casa, cioè me le ricordo a casa nostra, non me le ricordo, non me le ricordo noi da loro. Sì, altre cose no. Poi io neanche tanto, veramente. Non te lo ricordi, Cesare? Sì, fisicamente non ce l'ho presente, però... Sì, perché poi aveva questi due bambini che giocavano con noi, ecco, per cui avevo questa cosa... È esattamente quello che dice lui, cioè c'era una frequentazione fraterna anche per il piacere di stare i bambini insieme. Sì, poi io mi ricordo delle stupidate, cioè mi ricordo che probabilmente un suo figlio mi aveva insegnato a mettere una molletta con un cartoncino nella ruota, nei raggi della bicicletta, perché così andando si faceva il rumore del motore. Ecco, mi ricordo delle stupidate. Per noi erano amici di famiglia, cioè che avessero ideali comuni con... Cioè noi che cos'era l'anarchia? L'abbiamo chiesto perché penso per la prima volta a mia madre dopo che è morto Pino. Per noi era tutto normale, cioè non era... non pensavamo... Non ci chiedevamo neanche. Quella era la nostra vita. No, 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 stavo dicendo, ma come bambini, cioè non ti fai dei dubbi, non ti fai delle domande su queste cose, no? Cioè mia madre ha detto... Cioè è tutto normale, cioè come ascoltare De Andrè o Contessa che ci faceva sentire il papà, cioè era una cosa normale. Quindi immagino anche fosse normale la frequentazione di amicizie in casa. Non so che può sembrare una constatazione cretina, ma non lo è perché oggigiorno non ritro... Non vivo in un mondo come quello descritto da Alicia nell'abitazione vostra all'infanzia, in questo casone pieno di famiglie dove tutti sapevano tutto, ma soprattutto ci si dava comunque una mano nei momenti... Non è quanto probabilmente accade nell'Italia di oggi, fa parte di un'Italia che non c'è più. Voi avete questa sensazione di ricordo nell'infanzia di una casa frequentata e molto da altre persone, anche condivisa con... La nostra casa? Ah certo, ma la nostra casa era... C'era sempre gente, un po' per il lavoro che faceva Alicia, quindi copiava a macchina le tesi degli studenti. E poi perché mio padre quando era a casa amava avere persone intorno e amava anche cucinare per gli altri. Voi avete un ricordo nell'infanzia, nell'età piccola che avevate, per cui considerazioni di bimbi, del fatto che lui non fosse molto presente anche perché spesso fuori per riunioni o per... Il mio padre quando era a casa, quando non lavorava, era comunque sempre molto presente con noi perché ci veniva a prendere a scuola lui e mentre con nostra mamma si tornava a casa, con lui si andava o all'eggiostro a prendere il gelato. Ci portava anche alle riunioni, al Ponte della Ghisolfo, allo Scaldasole, mi ricordo che andavamo... Al Ponte della Ghisolfo, però sì, non riunione perché... Sì, non riunione, perché ne facevamo solo danni. Quando andava al circolo anarchico spesso ci portava con lui o quando si trovava con l'Augusta, con i compagni anarchici all'edicola dell'Augusta in via Orefici e noi passavamo ai pomeriggi stupendi a leggere i giornalini dentro all'edicola mentre loro eravamo fuori a parlare. Sì, comunque... L'ultimo anno di Pino è stato un anno in cui lui particolarmente era impegnato fuori casa e si sentiva morto. Lui chiaramente continuava a lavorare e aveva i turni e quando non c'erano i turni c'erano le manifestazioni, le riunioni, organizzava gli scioperi della fame sia per gli anarchici che erano stati ingiustamente arrestati per gli attentati precedenti a Piazza Fontana sia con i giovani della Cattolica per una legge sull'obiezione di coscienza e si sentiva, e si sentiva. Questo ricordo delle discussioni che c'erano tra Pino e Licia. Rispetto alle persone... No, perché casa nostra era molto frequentata. Chiaramente Pino era una persona estremamente aperta e disponibile e lì c'era più diffidente. Avevano un temperamento completamente diverso, insomma, Pino sicuramente più aperto, più ottimista, più espansivo, molto più riservata, quindi non è che le piacessero tutti. Però appunto casa nostra era sicuramente... Tra l'altro casa nostra era un appartamento in una casa popolare di due locali, quindi piccolissimo. C'era gente che andava e veniva a tutte le ore, c'eravamo noi bambine che giocavamo lì, che portavamo a casa gli amichetti, noi avevamo... In questa casa popolare c'era il cortile, per cui noi eravamo o a casa di qualcuno o c'era qualcuno a casa nostra, oppure si giocava nel cortile. Quindi sì. In effetti poi forse la differenza più grossa che abbiamo sentito è questo, quando c'era Pino, la casa era piena di gente, quando è morto lui la casa si è svuotata. Infatti c'era la nonna Rosa che veniva a casa e quando stava andando via diceva chiudete la porta. E a me questa cosa qua, che non avevamo sempre questa porta aperta, ha segnato il passaggio. Vi chiedo una cosa. Un ricordo del nonno, cioè dell'anarchia passata da una generazione all'altra. Cioè un nonno anarchico, è un nonno socialista. Dico giusto? Sì, sì. Poi avete un ricordo? Ho chiesto a mia mamma adesso del nonno di suo padre e anche lui non parlava tanto, solo che lui dal paese dovete venire a Milano perché non prendendo la tessera del fascio lì non lo facevano lavorare. Venendo a Milano riuscì a trovare un posto alla Pirelli come operaio senza prendere la tessera. ho chiesto a Alice e mi diceva che andavano assieme alle riunioni degli anarchici. però non hanno mai discusso su... cioè andava con suo padre a queste riunioni. Basta anche perché poi mia mamma era comunista. Sì, anche perché parlavano tutti molto poco. Cioè chiaramente ricordi del nonno noi li abbiamo. Però ad esempio ho dei ricordi sfumati di quando abitavano in Viale Monza andavamo a trovare i nonni, no? Più la nonna era presente che ci faceva gnocchi, eccetera. Il nonno era questa figura molto silenziosa. Un po' malattice anche perché comunque ha sempre avuto dei grossi problemi di salute. E quindi poi io lo ricordo maggiormente quando dopo la morte di Pino si sono trasferiti per quello che doveva essere una soluzione temporanea a casa nostra e lui praticamente faceva da filtro a tutto ciò che arrivava a Licia. Era lui che apriva le lettere che arrivavano che non le faceva vedere le lettere anonime, le lettere di minaccia. Le dava solo quelle che... con una testimonianza di solidarietà. Però il padre di mia madre è morto un mese dopo Pino. C'è stata questa forma influenzale devastante nel 1969. Sono malati tutti di influenza e lui poi per le conseguenze di una malattia che già aveva e dell'influenza lui è morto un mese dopo. E quindi quella che doveva essere una soluzione temporanea è diventata definitiva per mia nonna che è venuta a vivere con noi. Un ricordo di Licia che ritaglia i giornali. È bellissima questa immagine che è descritta da lei... Per me è un incubo. Sì, esatto. Me ne volete parlare? Perché è un incubo? No, l'unica cosa è che il ricordo che ho io è che lei quando arrivava a casa la sera ritagliava i pezzi dei giornali e poi li archiviava. Li metteva nelle cartellette con la data e... Allora, considera che lei non c'era più. Quindi lavorava fuori casa e poi c'erano le riunioni con gli avvocati c'erano le varie iniziative e quando era a casa lei ritagliava. E quindi non staccava mai da questo. Quindi un ricordo da incubo in questo senso. Sì, esatto. Ma nelle vostre giornate voi con chi eravate? Quindi... Licia poi... A scuola. Eravamo a scuola fino a tardi comunque. E poi c'era la nonna a casa. La nonna quindi ha seguito mesi immediatamente successivi anche anni. No, beh appena è successo siamo andate prima per qualche giorno da mia zia Liliana la sorella di Pino e poi a Padova dal fratello di Licia. Secondo me è il contrario prima siamo andati a Padova. No, invece di me siamo andati subito lì e poi dopo siamo andati a Padova e siamo rientrati dopo il funerale quando la mamma è venuta a prenderci. Sì, poi abbiamo cambiato casa abbiamo cambiato scuola e siamo andati in questa scuola a tempo pieno nella Casa del Sole che è un posto incredibile. non l'ammetto che non la conosco e non sono poi andata a informarmi mi dice ecco perché era un posto incredibile adesso da scuola non sì perché è inserita in un parco con dei padiglioni ed era una scuola che era stata creata penso al tempio del fascismo per i bambini gracili e poi era diventata una scuola per bambini che avevano probabilmente delle difficoltà. nella zona di Via Le Monza c'era un piazzale all'interno della scuola in questo parco e c'erano 15 pullman che arrivavano portando i bambini da ogni parte di Milano ed era una scuola all'aperto vuol dire che c'era la tua classe ma facevi svolgevi tutta una serie di attività all'esterno per cui facevi agraria per cui coltivavi il tuo orticello c'erano tante cooperative la cooperativa Kikiriki che si occupava delle uova perché c'era una fattoria all'interno della scuola e dei pulli quella è stata una bellissima esperienza poi chiaramente noi ci siamo trovati i fotografi all'interno della scuola chiaramente no però ci siamo trovati anche in una situazione in quel tipo di situazione e facevamo una scuola a tempo pieno per cui la scuola terminava alle 4 e mezza però il tragitto scuola a casa era molto lungo per cui ci voleva un'ora col pullman della scuola e quindi comunque il tempo che stavamo a casa era partivamo col buio e tornavamo col buio di inverno esatto diciamo che insomma perdi il padre perdi la madre perdi tutti perdi tutti esatto avete un ricordo di rottura con amicizie mi sembra cioè avete un buon ricordo di questa scuola quindi avrete sarete riusciti a ritrovare o no? era una cosa che arrivava dopo una cosa tragicissima qualsiasi cambiamento anche di compagni anche di insegnanti era lasciare da parte una parte del tuo passato cioè come volerlo non lo so insomma io avrei preferito rimanere dove sì abbiamo avuto un po' insomma viene sradicato un po' da tutto e devi ricostruire e non hai l'età per capirlo e non hai gli strumenti per affrontarlo e quindi poi te ne rendi conto man mano quando vivi ogni cambiamento è come se fosse un trapasso e allora poi realizzi che probabilmente si fa fatica comunque si fa fatica ecco dopodiché noi all'interno della nuova scuola abbiamo trovato sicuramente degli insegnanti sensibili che e poi considera che pian piano ma relativamente velocemente rispetto all'inizio quello che era stato detto di Pino le cose sono cambiate e quindi anche negli insegnanti negli altri studenti c'è stata una maggiore sensibilità diciamo poi è chiaro abbiamo dovuto affrontare dei gradini anche perché noi eravamo le figlie di Pinelli ma io mi ricordo quando siamo perché il primo periodo l'abbiamo fatto comunque nella scuola elementare di Via Paravia siamo andati lì e mi ricordo che questa la mia maestra mi corse incontro piangendo e io mi chiedevo cosa voleva questa qua da me adesso anche perché noi eravamo le bambine che avevamo il buono scolastico per rimanere cosa c'era il patronato scolastico ed era io ero in fondo alla alla classe perché davanti c'erano i bambini più più ricchi insomma perché c'era già questa c'era e comunque anche la mia devo dire che però quando sono tornata a scuola la maestra mi aveva accolto ti dico mi aveva abbracciato piangendo e poi dopo niente abbiamo comunque cambiato scuola cambiato compagni di scuola e cambiato tutto invece non mi ricordo assolutamente quando siamo tornati dopo se siamo tornati lì a scuola mi ricordo che siamo andati a scuola dopo il 12 dicembre prima della morte di Pino e avevo questa compagna di classe che adesso poi si è messa in contatto recentemente su facebook e suo padre era un impiegato della banca nazionale dell'agricoltura e quel giorno aveva dovuto sostituire un collega in un'altra sede per cui quando siamo tornati a scuola la maestra aveva chiesto a questa bambina ma tuo padre sta bene il mio papà non era in banca e poi ci siamo ritrovati recentemente non mi ricordo assolutamente di essere tornata in quella scuola il ricordo che facevamo prima di una casa vissuta da molte persone è comune con i ricordi di famiglia di altre persone intervistate ed è una cosa bella vi vorrei chiedere questo perché con altre persone intervistate si è discusso si è parlato del matrimonio e dei problemi di relazionarsi con con le persone dell'altro sesso e la difficoltà che l'anarchia poteva dare questo in pratica sposarsi oppure no sposarsi in chiesa oppure no in anni in cui il matrimonio era considerato ovviamente in chiesa e se il nonno non era anarchico non era socialista poteva essere un problema licepino si sposano in chiesa in chiesa infatti con i nonni che erano rimasti fuori dalla chiesa proprio questo e che non ho capito esattamente perché poi mia madre ha detto ma perché così loro erano contenti ma chi? cioè non ho capito quale nonno doveva essere contenta o nonna doveva essere contenta di questo però evidentemente anche perché i genitori di Pino non erano sposati quindi probabilmente c'era questa necessità da parte di Pino non di sposarsi in chiesa ma di sposarsi probabilmente anche in chiesa una presa di responsabilità in chiesa quindi l'hanno fatto l'hanno fatto bene sicuramente licea poi nel tempo ha avuto un atteggiamento anche di di chiusura lei ha dovuto difendersi sia dagli nemici che dagli amici o comunque lei l'ha interpretato così insomma per mantenere una autonomia di scelta comunque devo dire che all'inizio gli amici che poi sono quelli ancora adesso che sono vicini e alicia erano comunque fuori dal movimento anarchico e penso che all'inizio anche per anarchici fosse difficile anche perché li mettevano tutti in galera quindi e dovevano pensare a loro stessi probabilmente però Bruno che ci venne a prendere con Beppe la sera che mio padre fu ucciso per accompagnare mia madre in quest'ora ci sono quelli che poi ci hanno accompagnato nel corso di tutti questi anni comunque alcuni c'erano cioè Milud si ha sempre frequentato casa però era già particolare Milud si che poi ha continuato io sono assolutamente certa che da vicino di normale non c'è nessuno sì ma non c'è nessuno però alcune persone sì devo dire ad esempio di Valpreda l'unico ricordo che a parte che va bene lui era in carcere ma quando era ai domiciliari a casa dell'Augusta e con la mamma di Pino io e la Claudia siamo andati a trovarlo e mia madre si era arrabbiata e io mi ricordo i carabini la macchina sì che c'era la polizia la polizia che sì sì perché lui era è domiciliare perché eravamo andati perché ci aveva portato lì senza dirglielo eh sì perché comunque era una situazione nel libro vengono ricordati dei momenti delle belle cose queste testimonianze di lettere che arrivavano dagli Stati Uniti di anarchici che vi davano così solidarietà avete un ricordo di presenze anche però magari solo come regali come lettere come magari da persone che non beh io questo ricordo quando siamo tornate a casa che c'erano tanti regali cioè tante persone che erano passate avevano lasciato davanti alla porta di casa dei regali per noi o delle lettere anche questa anche l'abbonamento a Topolino fatto da una quinta elementare con la lettera scritta da un bambino chiaro a noi poi quello che veniva mostrato era la parte positiva non tutto il resto da cui siamo state protette volevo chiedervi ancora di Carrara c'è una foto nel libro di voi bimbe piccole al congresso anarchico quindi c'è una foto quando eravamo al congresso io me la ricordo benissimo mi ricordo quel giorno ecco volevo chiedervi di io mi ricordo ma perché me lo ricordo perché mio padre voleva che dei compagni francesi penso entrassero facessero cioè li facessero entrare per per l'assemblea per questa riunione che c'era ebbo una discussione accesa con Mazzucchelli un vecchio Mazzucchelli che io pensavo fosse il capo dell'anarchia e ci fu questa discussione dove mio padre diceva appunto che i compagni francesi o i ricordi dovevano essere fatti entrare perché avevano fatto il viaggio perché erano anarchici e lui diceva no perché è chiuso c'è il pericolo di infiltrazione una cosa di questo tipo però mi ricordo che noi con mio padre che sono arrabbiato eravamo io ero un po' sentivi la tensione perché poi quell'anno lì ne avevamo approfittato perché noi eravamo lì al mare e lui andava al congresso per cui è stato l'anno in cui l'abbiamo visto di più durante l'estate perché era lì e pensa io non mi ricordo nulla di questo cioè io mi ricordo che c'era un pianoforte nella sala a coda ecco l'unica cosa che mi ricordo del congresso anarchico la gente sul palco e nostro padre giù dal palco che chiedeva di far entrare questo diceva di no e lui si arrabbiava insomma hanno avuto una bella una discussione ovviamente sarete legate strettamente a Carrara perché vostro padre è lì ma vi lega qualcosa avete nominato Mazzucchelli Mazzucchelli è intervistato il figlio l'anziano Alfredo vi lega qualche persona avete un legame se andate a Carrara cosa vi chi trovate ma io sono andata l'anno scorso tra l'altro ospite dell'Aurora Failla alla quale effettivamente sono molto affezionata ma più che altro perché quando andavamo a Carrara i genitori avevano questa avevano un un alimentare un negozio di alimentare e li frequentavamo e poi sono andata ci sono quei posti dove vai e ti senti comunque bene sono andata perché sono andata al cimitero da mio padre e poi sono andata a Castelcolò a Colonnata Colonnata dove c'è questa questa targa di marmo ai compagni ai compagni uccisi sulla strada della libertà ci sono queste cose che ti non so è come seguire qualche cosa non so vai e senti dentro una pienezza che di solito non hai ci sono questi vai anche quando vedi queste le cave di marmo queste ci sono questi posti che ti riempiono sono andata per qualche primo maggio sai che fanno questa manifestazione in cui mettono queste corone le varie lapidi che sono avevo poi seguito a suo tempo tutta la diatriba riguardante il monumento a Bresci che è lì a Carrara invece per quanto riguarda Gaetano Bresci c'era c'è questo amico di Pino Giovanni che aveva che ha scritto una lettera a Alicia ricordando che lui e Pino erano andati in bicicletta fino a Munza per portare i fiori sul luogo dove Gaetano Bresci per mettere la bandiera anarchica sul luogo dove Bresci aveva ucciso il re e quindi una delle cose positive è che Alicia ha conservato tutte le lettere che le sono arrivate in questi 45 anni tutte quelle molto belle e quelle molto brutte e quelle rimangono una testimonianza molto importante anche della natura umana che è capace di grandi bassezze soprattutto quando le persone sono in difficoltà ma anche di momenti molto molto alti di solidarietà voi avete conosciuto Enrico Bagli avete un ricordo solo per nominarlo per ricordare questa sua sì l'abbiamo conosciuto mi ricordo che aveva tre figli tra l'altro andavamo a casa sua a mangiare invitati dalla moglie ovviamente e ci ricordiamo mi sembra tutte e due che eravamo andati a vedere prima che venisse esposta l'opera di Bai il giorno prima quindi e che un Bai che ci voleva fotografare eravamo andati con la chicca Domeneghetti che è la moglie di Smoraglia e lui voleva fare la foto con noi nelle sagome vicino alle sagome e la chicca aveva detto di no avrebbe dovuto essere inaugurata il giorno dopo e il giorno dopo invece venne assassinato Calabresi e inizio quest'opera è una è un'incompiutezza che è dovuta a questa mancata inaugurazione beh incompiutezza in quel senso nel senso l'opera è un'installazione di 12 metri per 3 con tre figure staccate dallo sfondo che siamo noi due e Edicia e l'opera non è incompiuta nel senso che l'opera è una specie di incastro no questo questo pannello incastra diverse figure e quindi ci sono questi generali tipici di Bai questi che rappresentano il potere che hanno degli ingranaggi al posto degli occhi c'è questa figura che cade e ci sono queste altre persone che hanno gli occhi di madre perla è estremamente significativo come è di grandissimo impatto è stato esposto a Milano penso per la prima volta da due anni fa nel 2000 e forse tre anni fa nel 2012 da giugno a settembre quando c'era Boeri all'assessorato alla cultura a Milano ma subito dopo venne esposto però in altre città italiane perché venne esposto a Bologna in quadro di Bai è stato esposto in tutto il mondo escluso che a Milano a Milano è stato sdoganato da Boeri e tra l'altro la fondazione Marconi l'ha offerto in dono al comune di Milano se si impegna a esporlo in maniera permanente esatto trova una collocazione in una in una sala fissa cioè dove rimanga lì chiaramente è impegnativa come opera perché è veramente molto grande poi ci sono queste figure staccate e poi a terra ci sono delle passamanerie delle è un'installazione non è un quadro è un'installazione il foto sembra piatto ma non lo è però mi ricordo che quando c'era tutta la diatribe insomma che il comune non lo prendeva mi ha detto ma Zucchelli mi fa non ti preoccupare lo portiamo noi a Carrara e gli ho detto veramente noi ci terremmo che che venisse esposto a Milano perché mio padre ha fatto la resistenza a Milano è stato assassinato a Milano Milano è la è la sua città comunque ci sono delle città straniere che si sono offerte di acquisirlo ma al momento è non donato a Milano no perché è in una fondazione è smontato è smontato alla fondazione come si chiama? Marconia alla fondazione Marconia adesso avevo un vuoto è lì non è visibile no è ripartita una raccolta firme tramite la responsabile della cultura della zona 4 di Milano la petizione è stata firmata da tutti i responsabili della cultura delle nove zone di Milano quindi è arrivata l'assessorato l'assessore ha assicurato che verrà trovata una collocazione per quello che è è una ricchezza per la città di Milano non per la famiglia Pinelli vero? sì infatti è sempre su Milano l'altra così abbiamo descritto la questione della lapide in piazza Fontana è una questione che è sempre stata discussa e annualmente veniva chiesta la rimozione fino al poi c'è stato nel 2009 abbiamo avuto un attimo di pausa invece poi si è ricominciato con Decorato che la che chiedeva appunto che venisse tolta ma ancora adesso appena ho l'occasione nel 2006 nel 2006 mi sembra adesso non ricordo bene ecco venne rimossa dal comune di Milano in piena notte e in concomitanza con lo sciopero della stampa del giorno dopo è sostituita con una infatti in piazza Fontana ce ne sono due con un'altra che porta la firma del comune di Milano che dice a Giuseppe Pinelli innocente e morto tragicamente nel locale della questione morto tragicamente innocente e morto tragicamente una cosa così e ce l'hanno tolta di notte e in un giorno in cui all'indomani c'era lo sciopero della stampa e questo lo fece cioè durante era sindaco all'epoca Albertini e poi si praticamente sarebbe caduto il mandato e aveva promesso che avrebbe sostituito la lapide tra l'altro quella che hanno portato via non è quella che è giù questa era molto già molto deteriorata per cui era stata sostituita con una nuova che riportava la stessa scritta Giuseppe Pinelli ucciso innocente nel locale della questora di Milano bisogna dire che fortunatamente qui non si butta via niente era stata conservata la lapide del 76 quindi adesso quella che c'è è quella originale ancora del 76 chiaramente il comune di Milano poteva farla peggio cioè poteva toglierla perché quella lapide era e non mettere più niente e poteva non mettere niente ha scelto di mettere questa lapide in cui c'è scritto innocente morto tragicamente nei locali della questora di Milano secondo me serve anche quella perché è interessante che un'istituzione dica che se entri in una costura puoi morire tragicamente che si è